Ciao! No vabbè, cazzate a parte Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui in me E oggi siamo qui in questa nuovissima serie Si può essere una serie Sento scusate i capelli ma sono troppo lunghi e non ci posso fare niente Allora, questa nuovissima serie sarà una rubrica Dove vi mostrerò tutti un paio di cose online Su siti come Aliexpress, Banggood Di più Aliexpress perché mi fido di più Ho comprato molte cose su questo sito e devo dire che mi sono arrivate tutte Wish non lo mostrerò perché Wish ho ordinato una cosa Più di una, veramente, da vari store e non mi sono mai arrivate Quindi non so se fidarmi e preferirei Può essere anche che sono stato sfigato io Quindi evitiamo, io preferisco evitare Allora, oggi in questa rubrica parleremo dei orologi Gli orologi, io ne ho comprato uno Però su questa rubrica non c'è perché l'orologio è terminato L'orologio è questo, simile a un Apple Watch L'ho pagato 30 centesimi, quindi vi faccio capire che i prezzi non sono altissimi Massimo 4 euro e 30 Non ne ho trovati come questo E' un orologio così dove fa vedere l'orario, giorni e i secondi Questi orologi saranno con spedizione gratuita Alcuni spediti dall'Italia, quindi arriveranno subito Altri invece spediti da altri porti del mondo Quindi dovrete un pochettino aspettare Il primo orologio è un LED Watch Ed è abbastanza carino Io ovviamente qui vi metterò una foto Come vedete il LED Watch ha un, come si chiamano, non mi viene Col cinturino, ecco Il cinturino che sembra decente Ma non vi fate ingannare perché nelle foto sembra tutto molto più carino Ovviamente fascia a qualità medio-bassa Perché questi orologi che vi sto facendo vedere Li hanno alcuni miei amici Quindi io non me li sono potuti fare dare Perché non me li hanno voluti dare Quindi io non li potevo obbligare Io vi darò anche gli orologi con il massimo dei resoconti Quindi dai 5 al 4 al salire Questo a valutazione 5 Quindi potete stare più che sicuri È lo stesso store dove l'ha comprato il mio amico E comunque il cinturino è abbastanza buono E anche il vetro è abbastanza buono Anche qui nel mio è abbastanza buono Però il mio lasciamolo stare Io certe volte mi girerò perché il computer l'ho qui Allora ora passiamo al secondo Che non mi ricordo qual è Ok questo Eccolo qua E questo invece è un orologio un pochettino molto più elegante Ah comunque il primo cinturino si basa ad un prezzo di 4 euro e 28 centesimi Con spedizione gratuita da Italy Capito? Allora il secondo Sempre spedizione non gratuita stavolta 2 euro e 28 Quindi si basa con 2 euro e 70 di orologio Con un costo di 5 euro 4 euro e 98 centesimi Questo orologio è molto più elegante Abbiamo in varie colorazioni Io non ho trovato Mi pare di questo Non l'ho trovato la foto Però Ci riuscirò Abbiamo in varie colorazioni L'abbiamo blu E sabbia E rosso E non mi ricordo quale E anche un verde Io ve lo consiglio Io ora Mi metterò la foto Con più o meno tutti Qua abbiamo Come dire Negli orologi Quelli non led C'è dietro le ore E dietro c'è La foderina Dove ci sono scritti tutti i numeri Qua può essere Sia nera Che bianca Voi come la volete Ve la prendete Io vi consiglio nera Pure perché è un pochettino più di estetica Allora passiamo al terzo Che dovrebbe essere questo Questo è in tessuto Metterò sempre la foto qua Qua non lo so dove la metto Se non la metto a tutto Non lo so Sempre tre colorazioni Blu, nero e verde Molto carino 4,5 di valutazione Spedizione Gratuita Sì A Italia Spedizione gratuita C'è il 10% di sconto Nel momento in cui sto facendo questo video Quindi oggi è il 20,02 Quindi penso che lo caricherò oggi Appunto per farvi vedere Le cose oggi Anche il risultato del negozio Molto alto E comunque 2,46 euro Viene a costare Abbiamo l'ultimo orologio Questo orologio È il più elegante Si può dire Più elegante Ho messo Ho voluto mettere questo Perché non sembra Tanto fasullo Cioè Ho visto vari orologi così E mi sono veramente piaciuti Però Non li ho comprati Perché non sono tipo Di mettermi ste cose Così preferisco questi led Che mi dicono subito l'olario Invece mi devo andare A leggere la cosa E vedere Comunque Questo orologio Esiste in molte colorazioni Abbiamo quello Che vi ho fatto vedere Quindi Ne Blu Giallo E rosso E possiamo averla anche Blu Bianco Verde Bianco Blu Oppure Blu Rosso Blu Ma Molti altri Comunque Vi lascerò I link Dei cosi Di questi Quattro Orologi Sotto In descrizione Troverete Ovviamente Tutti Perché I vari Colori Sono A destra Se andate dal computer Invece se andate Da cellulare Sono sotto Comunque ragazzi Per questo video è tutto Fatemi sapere Se vi è piaciuta Questa serie Se vi piace Io porterò Altri Altri cose Anche su cover Per telefoni Perché ci sono cover Online Che costano assai Non porterò cose Su amazon Perché su amazon Costano di più Magari le porterò Si però Con prodotti Di marca Si ma che costano Sempre poco Però amazon È una garanzia Comunque ragazzi Per questo video è tutto Noi ci vediamo al prossimo episodio Bella Da mega destroyer Noi ci vediamo al prossimo episodio